Grazie Emilio e il collega Piras. Insopprimibile rispetto alla crisi, pure profonda, occupazione profonda per chi si appassiona alla politica. Nell'incendere quotidiano, nella vita quotidiana, in una politica che ormai guarda talmente le differenze fra territorio e territorio, fra area e area, e quali sono le reali distri, cominci da qui. Da considerare una Sardegna nella sua specificità, non lo inventiamo, non era molto più autorevole Antonio Gramsci e altri grandi pensatori politici, partendo da questa specificità c'è una possibilità importante che finalmente l'occhio della città e non come dire, nella stessa maniera con le medesime norme.